Salve a tutti, buonasera a tutti, mi chiamo Jimi Hendrix e sono nato a Cassini di Guarrata. La mia mamma è nata a Luciano, invece mio papà è nata a Montorio. Io sto a Cassini a due passi da Vinicio. Senta, e qual è il gruppo preferito, oppure il cantante preferito appunto di Jimi Hendrix? Chi ascolta lei? A me mi è calma Max Pezzale, gli 883. E senta, lei è il più grande chitarista del mondo, ma chi è che le ha insegnato a suonare la chitarra così bene? Dai Bellini. Allora, io ho cominciato a suonare la chitarra da ragazzino, tra l'altro, e andavo dai Bellini a prendere da Gianni Rocchi, quello lì a Tiziana, presente? Lui suonava con gli aiena, sempre. E via la stanza su per Tiziana, mi ricordo, andavo in motorino. Una volta nevicò, manca un po', e volo di sotto dalla scarpata, o se ci manca un po'. Io ho un'eppervantazione a far dire la chitarra, te la suonare anche con una mano, con una mano lercia, te la suonare la chitarra, se voglio. Io, per dire, la canzone di Pasito, te la rifocco con una mano, per dire, una mano lercia, te la fosso un'erota. La sua canzone preferita? La mia canzone preferita, gli è Foxy Baugiano. Quella lì che fa, c'è una volpe a Baugiano. Foxy Baugiano, e parla di una volpe a Baugiano, e la se l'ha persa. Via ragazzi, ora c'ho da andare, c'ho da fare, c'ho da andare a cercare le castagne sui Montarbano. Senta, e secondo lei qual è il concerto più bello che lei abbia mai fatto? Ce n'è tanti, ma sicuramente quello è il campo sportivo a Casini. Uno spettacolo, c'era fari di concerto, riflettivano sulla fermulla, il fiume, questa magia della fermulla, questo fiume che passa qua errata, c'era le zanzare, le mi divoravano vivo. Grazie a tutti.